Secondo grave incidente stradale in due giorni a Clusone. Questa volta l'episodio è avvenuto all'incrocio tra via Aldomoro e l'ex provinciale poco prima delle fiorine. A scontrarsi una Volkswagen Golf guidata da una donna residente nella cittadina e uno scooter Piaggio condotto da un 64enne, anche lui di Clusone. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, sembra che poco dopo le 15.30 l'auto stesse immettendosi sulla strada principale da via Aldomoro, mentre lo scooter procedeva verso Bergamo. Nello scontro ad avere la peggio è stato il conducente del motorino, trasportato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo da un'ambulanza del corpo volontari Presolana. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Clusone.